buongiorno donnine eccoci con l'apertura di un nuovo corso di sartoria allora adesso stefano che è molto parla poco è però lavora tanto ha già tagliato tutti i cartamodelli tutti i pezzi che compongono il nostro cartamodello ok per cui lui è andato aspettate che lo faccio vedere da questa parte ha tagliato è andato a ritagliare tutti i pezzettini che servono il collo la martingala dietro la manica tutti i pezzi ok con la forbice sui cartamodelli troverete dei segni che chissà che cosa servono aspetta un attimo che ti faccio vedere bene qua il dettaglio ok questi aspetta aspetta che trovo il dettaglio eccolo qua vedete li dovete fare quando ci sono queste scritte punto di giunzione della spalla piuttosto che dovete fare una piccola intacca un tagliettino con la forbice perché questi punti saranno poi molto importanti e vi aiuteranno nella nell'unione dei vari pezzi ok saranno i punti che dovranno coincidere da una parte all'altra ok li vedrete sempre ben identificati sui cartamodelli anche le pezzi sulla carta devono essere tagliate solo sulla carta ok adesso stefano mi sta facendo vedere appunto lui ritaglia ecco un'altra cosa che vi ricordo la carta si taglia sempre con una forbice scrausa mai con le forbici da sartoria cioè sorelle belle le sorelle brutte mi raccomando non scherziamo ok abbiamo fatto la abbiamo tagliato la nostra pezzi abbiamo fatto tutte le piccole intacche adesso ci spostiamo e ci mettiamo prendiamo il tessuto e vi facciamo vedere proprio come poi dovete gestire come dovete andare a disegnare il modello ok allora adesso stefano c'ha un altro brutto vizio vuole i suoi spilli allora prende il cartamodello e posiziona il posizioniamo i pezzi sulla stoffa poi vi diremo anche come vanno posizionati e cosa vuol dire dritto filo cosa vuol dire cimosa e via dicendo adesso questo questo video è dedicato al riportare le intacche che facciamo sulla carta e gestire la pens ok il nostro modello di cappottino giacca questa variabile che non è la pens sul seno ma è la pens fatta sul collo e vedete madonna che strano sì perché è una pens che aiuta a dare vestibilità al capo ma per chi inizia è più semplice perché andare a lavorare a fare la pens sul collo qua è più facile che non fare quelle del seno perché quelle del seno sai a volte sbagliamo la fate troppo a punta non le fate uguali e sono molto difficili a gestire poi dopo diciamo che riusciamo a capire se vanno male o bene dopo che abbiamo montato la manica la spalla e così invece queste qua del collo anche tecnicamente viene più facile perché noi le andiamo a fare quando è tutto finito le facciamo quasi per ultime ok però è importante segnarle per prime le dobbiamo segnare subito ok adesso stefano ci fa vedere come allora abbiamo tagliato la pens sul carta modello col filo di imbastitura e rigorosamente col filo di imbastitura andiamo a segnare tutto il profilo della pens dicesi punti lenti o marche allora come si fa vedete lui sta facendo una cucitura coi punti non troppo vicini e li lascia un po larvi cioè qui lascia morbidezza sul tessuto ok per cui il punto quando lui tira il filo non lo tira fino in fondo ok allora aspettate che vi faccio vedere eccolo qua che così lo vediamo da due inquadrature ok che qui fare la regia col sarto vero la cosa tutto nuovo oggi però è bellissimo devo dire che poi l'idea di riuscire ad aiutare ad aiutarvi a fare questa cosa è molto bella allora lui adesso ha fatto tutto un lato adesso c'ha il filo corto e se lo rifano gli va bene uguale e fa solo l'inizio riesce a farla tutta lui è un sarto vero anche col filo corto lui riesce noi magari ci incarteremmo ma lui no per cui i punti lasciate sempre un nasolina morbida e così impariamo anche a fare le marche allora io quando ho conosciuto stefano lo prendevo un po diciamo madonna che noia che sei che devi sempre imbastire no o fare appunto i punti lenti le marche queste robe qua no dice madonna io andavo sempre un po chiometro no così piano piano e adesso continuando a lavorare crescendo ovviamente ho capito che porca vacca ci aveva ragione cambia la qualità del lavoro non c'è niente da fare magari buttiamo via quei due minuti in più per fare le marche per infilare il filo e per lavorare così però poi la qualità del nostro lavoro ha sicuramente del beneficio ok comunque quello che dovete ricordare qui le pensi si tagliano sul sulla carta ma non si tagliano sulla stoffa sulla stoffa si segnano col filo di imbastitura sentite che bel rumore questa forbice è bellissima gli ho messo anche l'audio vicino vabbè queste sono le forbici dei sartiveri eh le nostre magari non fanno lo stesso rumore però tanta roba allora lui taglia ecco l'altra cosa importante quando si taglia non si muove la stoffa vedete che la sua manina rimane lì ferma ed è lui che si contorce si gira e si fa per muoversi non certo la stoffa ok adesso andiamo nel dettaglio vi faccio vedere qua ok allora ha tolto gli spilli toglie la carta separa i due pezzi di tessuto e tutta quella ricchezza di filo che c'era adesso si trova in mezzo lì in mezzo la tagliamo e così abbiamo i pezzettini di filo sia da una parte che dall'altra ok vedete è importante avere quella ricchezza di di filo questo rimane dietro così questo così e poi andate a stringere la pega la la pens da una parte e dall'altra e andiamo ancora a mettere gli spilli ecco le pens dove si parte a cucire si parte da qui o si parte dalla punta si parte da qui ok o è muto stefano niente niente non c'è verso non vuole parlare vabbè ragazze così però è simpatico è tanto ve lo conoscete e mette i suoi spilli e fa ok per cui partiamo a cucire da qui e arriviamo in fondo qua qui facciamo la saldatura l'avanti e indietro e invece in fondo andiamo via lisce e facciamo eventualmente un nodino perché se noi andiamo a fare avanti e indietro qua in fondo rischiamo di fare un groppone e se non siamo belle precise non va bene ok allora a me fa è bellissima questa cosa di lavorare con stefano così muto perché io però a me da una sicurezza incredibile perché io dico cose che magari faccio da anni ok però non so mai se sono proprio vere no se sono giuste magari le ho fatte per fantasia che ma adesso avere lui che mi dice che va bene madonna mi sento una sarta va bene per cui mi raccomando questi sono tutti i suggerimenti che vi servono per i cartamodelli in pdf che vengono venduti dal laboratorio o comunque in generale sono suggerimenti che servono nella sartoria però noi cerchiamo sempre di legarli ai nostri cartamodelli se avete bisogno di aiuto non chiamate pure senza nessun problema o scrivetemi vi lascio come sempre la mia locandina sulla locandina avete costi orari e quant'altro indirizzi vi ricordo che i corsi si fanno in laboratorio dal lunedì al sabato non ci sono nei gruppi nei calendari potete tranquillamente decidere voi il giorno e l'orario per i file in pdf dei cartamodelli troverete sul file che riceverete tutte le indicazioni eventualmente per le stampe e tutte le indicazioni per capire quali sono i video connesse ogni cartamodello ciao a tutte